E' scaduto il termine relativo alla composizione delle liste e in Sicilia, con particolare riguardo ad Agrigento, non sono mancate le sorprese. La più in attesa riguarda Salvatore Iacolino, che lascia il PDL e passa a Grande Sud, dove viene candidato al secondo posto al Senato dietro a Gianfranco Micichè. Alfano ha fatto le sue scelte e io la mia, tuona Iacolino. Tra le righe, neanche troppo, si legge la sua insoddisfazione riguardante scelte ai vertici del partito, che Iacolino stesso aveva già espresso subito dopo la sconfitta alle ultime regionali. La goccia finale è arrivata con le liste per Camera e Senato, che con ogni probabilità hanno fatto saltare l'intesa tra Iacolino e il PDL. C'è chi va e chi resta quindi tra le file degli azzurri. Una new entry, che era comunque annunciata, riguarda il consigliere provinciale del patto per il territorio Riccardo Gallo, che dopo aver condotto le amministrative al fianco dell'Udc di Marco Zambuto, è entrato nella coalizione a sostegno del partito di Angelino Alfano, poco prima delle elezioni regionali. Per lui sesto posto alla Camera in Sicilia occidentale, davanti a Nino Bosco, coordinatore provinciale del PDL, che scatterà dalla settima piazza. Il saccense Giuseppe Marinello insegue la sua quarta legislatura come quarto al Senato, stesso discorso per Giuseppe Ruvolo, ex Udc e oggi in forza cantiere popolare, in lista come settimo. Angelo Capodicasa occupa la terza piazza tra i camerali nel Partito Democratico, Tonino Moscat decimo davanti a Maria Iacono undicesima. Al terzo posto della lista Monti per il Senato si trova un altro grande ex, Benedetto Adragna, fu riuscito dal PD poco più di un mese fa, mentre alla Camera troviamo al sesto posto Paolo Minacori, il farmacista, portavoce di Epolis, movimento civico protagonista alle ultime amministrative. L'assessore alle politiche sociali di Agrigento, Antonino Amato, è settimo alla Camera per l'Udc, seguito al dodicesimo posto da Michele Botta. Per il 5 Stelle Giovanni Di Caro, ottavo alla Camera, è Emma Gianni, nona al Senato. L'ex deputato regionale, Maria Grazia Brandara, sarà tredicesima nella lista il megafono di Crocetta, direzione Palazzo Madama. Infine la destra porta Domenico in Cardona, terzo alla Camera, mentre Armando Antona sarà quinto al Senato per forza nuova.